Vabbè io non riesco a distinguere, a me hanno fatto piacere tutti e sono stati tantissimi. Quindi a tutti voglio ringraziare perché non potevo ringraziare a tutti. Io sono a disposizione, io ne ho fatti 30, 40, 50, 60, mi sento sempre lo stesso. Ma io non ho mai avuto la voglia di stupire, ho avuto la voglia di fare calcio per fare risultati e per migliorare i ragazzi che avevo a disposizione. Ma io sono uno che ha voglia di fare calcio, la proposta c'era, il discorso che si è sempre detto che a Natale quelle tre squadre sono retrocessi, io ero convinto che si poteva fare qualcosa. Purtroppo non ci sono riuscito, ma ci ho tentato di dare una svolta. Quindi se stavasse indietro accetterebbe... Si sapeva che era difficilissimo, però visto tipo Crotone che ci è riuscito a tirarsi fuori, a tirarsi fuori, a fare qualche cosa, noi non ci siamo riusciti. Secondo me è un problema mentale, non è un problema tecnico. Nel senso io reputo questi giocatori ancora superiori rispetto a quelli che sono a Crotone. Vabbè, io non voglio parlare del mercato. È normale che io vorrei cambiare qualche cosa e poi il discorso dell'età non è tanto importante quanto è importante di trovare i giocatori disposti mentalmente a lavorare, a soffrire, a cercare di migliorarsi. Io penso che anche questo ha influito nel senso che la squadra questa ha vinto campionato, è andato in Serie A e pensavano che hanno risolto tutti i problemi. Non si capisce, non si capisce la importanza di cercare di migliorarsi. Se la squadra basta, siamo in Serie A e siamo arrivati, il problema è poi mantenere Serie A, bisogna fare qualche cosa di più, no di meno.